ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo unboxing come dal titolo la fine di un'era perché la fine di un'era direte chi mi segue su telegram già sa qui chiaramente se dovete andare adesso con questo unboxing purtroppo e infatti mi scuso se è già successo già in alcuni video non so se probabilmente accadrà fino a marzo forse anche aprile probabilmente in alcuni video forse io me sono accorto purtroppo in questa settimana e non so se sta cosa è successa dopo la caduta o sta accadendo adesso come potete intuire il telefono infatti un sintetico lato un poco diverso perché sto utilizzando l'altro telefonino per registrare questo telefonino ormai è arrivato ecco perché la fine di un'era in che senso è arrivato come ben sapete questo di cuore di raccontare vi dissi che mi caduto a terra nel mese di mi pare settembre ottobre e ha tutto il retro rotto ora direte anche se nello scambio del territorio trotto la fotocamera ok quella fronte a tutto quanto è ok e di conseguenza lì per lì l'ho sempre ancora usato e non c'è il rischio di dove prende un altro telefonino ma purtroppo oggi oggi stesso che ho preso oggi stesso sono stato costretto a comprare un nuovo telefonino ecco perché un unboxing e adesso c'è dopo il telefonino chiaramente che ho preso allora cosa è successo perché sono stato costretto a comprare il nuovo telefonino e che andrà a sostituire questo però non per tutti i video ma solo per un tipo di video come dicevo prima mi sono scusato se in alcuni video è praticamente o in questi video recenti avete visto tipo dei pixel qualcosa di strano tipo di puntini perché come dice mi sono accorto qualche settimana fa di questa cosa però ripeto penso che fosse l'obiettivo tipo riflesso ma in realtà è proprio pixel avete capito se è bruciato un pixel anzi due pixel addirittura dei pixel della fotocamera c'era della videocamera normale poi giusto giusto la videocamera normale quella frontale funziona senza problemi la fotocamera normale c'è quindi la videocamera frontale funziona la fotocamera normale funziona perfettamente ma la videocamera normale a due pixel non proprio più scena ma c'è esi tipo uno in video sicuramente lo vedrete c'è penso che due video c'è avuto detto ma c'è qualcosa di strano nella fotocamera sicuramente lo vedrete non calcolate che questi video in questo di qui di comunque vedere nei video di programma coseno perché solamente in quello lo vedrete calcolate che ne ho fatte dei video quindi fino a fine marzo potete stare testo pixel e vedo non da affassi per fortuna non da affassi nei video che sia una cosa molto è quasi impercettivo quasi non si vede ma se avete un occhio molto bene avete un buon occhio si nota questa sorta di pixel il secondo non si vede qualche solo in un modo sono riuscito a vederla adesso c'è stasera il primo come dicevo qualche settimana fra come dicevano questo non sarà abbandonato quindi roccia telefonini però calcolate che vi spiegherò un po tutta la situazione quindi questo video sarà forse anche un po lungo questo di qui il problema come dice quindi la videocamera normale quindi non lo userò mai più quindi non lo userò più purtroppo per fare per fare i video di proviamo cose nuove quindi quella serie questo di qui non lo userò più e utilizzerò sempre principalmente questo telefono per chiamare uscire con amici e quant'altro però non più per i video normali quindi che significa che questo di qua continuerà utilizzarlo per chiaramente giocarci e fare i gameplay quindi i gameplay continuano quindi con questo telefonino quindi i gameplay di Xbox ma anche peggio che Android continueranno sempre con questo telefonino perché ripeto il problema è solamente la fotocamera quella la videocamera normale quindi nei gameplay diciamo che non faccio praticamente quasi vedere la videocamera a parte quella frontale che la faccio vedere solamente al primo gameplay e all'ultimo gameplay solamente chiaramente per farmi vedere e fare i saluti quindi per questo quindi per il gameplay continuo ad utilizzare questo anche per le guide che diciamo non faccio proprio video è certo che faccio video per le guide per telegram utilizzerò sempre questo quindi quindi questo non sarà assolutamente più utilizzato per i video di proviamo cose nuove o potremmo utilizzarlo magari a questi video per esempio che mi faccio vedere frontalmente ma se doveva vedere dall'altra parte non lo utilizzerò più purtroppo questo di qui e quindi praticamente è cosa accade adesso da questo quindi come dice questo è utilizzato per queste cose diciamo come a telefono sempre principale ma non più per i video di proviamo cose nuove in più sempre questo non lo utilizzerò più come sapete mi occupo di riprese di eventi tipo di processioni, tuning, rally utilizzerò sempre quello nuovo quindi quello nuovo che adesso vedrete sarà utilizzato solamente per i video di proviamo cose nuove solamente per quello e per quando andrò dovrò fare eventi le vero la scheda da qui la passerei in quello nuovo ma solamente può essere un giorno o due giorni poi ripasserà di nuovo in questa se telefoni la scheda e infatti quello è stato utilizzato per le magic eccezionalmente per i video mi sto ripetendo scusate 50 volte mi scuso solamente per i video di proviamo cose nuove e basta andando dalle faunini come ben sapete questo che si è rotto è il redmi noto 8 pro e questo che sto utilizzando per fare video che mi scuso se siete delato un poco strano ma anche in alcuni video di proviamo cose nuove sentire delato in questo modo purtroppo quelli che diciamo registrato oggi stanno quindi in due o tre video e quindi come dice questo è il redmi noto 8 pro che si è rotto chiaramente che si è ancora utilizzato questo di qua che sto registrando è il redmi not 9s che diciamo non lo userò più praticamente cioè è raro che lo usavo ma non lo userò quasi praticamente più e quello nuovo che ho preso secondo voi quale potrebbe essere? come vi dicevo io sono fissato ho la fissazione per il redmi redmi e per i not infatti redmi noto 8 pro redmi not 9s e ho preso secondo voi il redmi not 12 pro cioè io sono fissato mi spiace dirlo ma io adoro proprio il redmi not come è un tempo per i samsung adesso per il redmi praticamente precisamente proprio i not adesso chiaramente cambierò inquadratura e andiamo a fare l'unbox ok rieccomi qua sempre nella solita classica inquadratura e si mette non mette tanto a fuoco eccolo qua questa è la sconfessione del redmi e devo chiaramente alcune cose non posso farle vedere redmi not 12 pro qui non c'è nulla qua va bene non c'è altro adesso qua non posso farvi vedere perché c'è tipo codice e cose ok non ricordo se quando lo aprivo così o perché chiaramente l'ho già aperto perché si come ben sapere sono maniacale che i telefri devo averli perfetti c'è con la pellicola in vetro la custodia non c'è ancora però la pellicola già in vetro l'ho comprata e l'ho messa allora prima andate a prendere il telefono e lo andrò a mettere di lato per ora qua abbiamo la nostra scatola con redmi by xiaomi ah chiaramente quanto l'ho preso allora vi faccio un repilico il redmi not 8 pro quello che è rotto l'ho preso circa 230 euro ai tempi perché si parliamo di circa 3-4 anni fa questo di cui che sto dicendo per il video è che il redmi not 9s l'ho preso se non erro 200 euro questo di questo lo prende più caro di tutti l'ho preso 250 euro logicamente l'ho preso con le specifiche che mi servono principalmente anche per le guide infatti questo che è rotto ha la processione LG 85 e LG 90 questo che sto dicendo adesso per il video ha lo snapdragon 720 se non erro invece questo che ho preso ha uno snapdragon un pochettino più elevato cioè lo 732G ripeto più o meno a stessi livelli cioè praticamente di per sé ha tutti i livelli uguali degli altri due telefonini ha solamente forse lo snapdragon leggermente più alto infatti come quello che si è rotto ha anche 8GB di RAM come quello e 128GB di memoria e a parte ciò altre cose devo dire quindi 8GB di RAM e 128GB di memoria se volevo potevo prendere a 260GB quindi per 10 euro in più anche quello praticamente con 256GB invece di 128GB però ho preferito questo principalmente perché allora questo di qua che è il 12 pro come colorazione va il blu soltanto quello 260 euro il nero ho visto che per la pelle scienze per il resto che ha dietro quello blu che è questo che ho preso io 250 euro è più bello quindi diciamo per l'estetica ma anche che comunque 256GB di memoria non me ne faccio nulla perché ripeto con 128GB quello che ha rotto e che ho usato per le guide diciamo riempie 128GB è difficilissimo cioè per le guide di GTA che ho portato su Telegram in quel caso si era riempita la memoria perché pesavano tanti i giochi però ora per esempio mi sono cancellato sia il 3 che il Vise City che mi sono giocati off camera ho lasciato solo il Santa Andreas sapete quanta memoria ho? 40GB liberi quindi per farvi capire che 128GB mi avanzano e mi bastano chiaramente qua abbiamo la solita bacchettina per levare e mettere la sim chiaramente andrò a trovare tutte le cose poi off camera infatti per quelli che vogliono le guide dovete aspettare almeno una settimana ora perché devo chiaramente installare le applicazioni in questo telefonino nuovo dopodiché fare tutti i test per vedere che non abbia nessun difetto perché sì se è un difetto devo subito tornare nel negozio e farmelo cambiare in qualche modo addirittura al negozio mi hanno detto che con i 15 eri in più avevo la garanzia e c'è che se ne occupavano loro per la garanzia ma per lì ho detto io mi hanno assenzionato potenzialmente a Palermo perché la garanzia è per 3 anni però se è già in guasto io penso che non devono per forza cambiare almeno qui a parte la linguetta poi abbiamo una pellicola in gomma che sì magari temporaneamente gli metterò questa adesso il telefonino solo per questo periodo poi come comprerò quella chiaramente a portafoglio come chi lo uso per tutti i telefonini gli andrò a mettere quella l'ho cercata oggi in qualche negozio ma non l'ho trovata qua abbiamo 3 sorta di manuali e niente dopodiché rimetto tutto questa diciamo la lascio fuori che la userò temporaneamente per il fatto che comunque questa è la messa qua dentro ok adesso andiamo a prendere anzi prima di prendere il telefono ci deve essere il caricabatterie e cavetto io mi dico che ci sia cavetto che carica batterie perché ora recentemente il telefono però lo metto qua di lato perché ora hanno il vizio di non mettere più il caricabatterie perché c'è il caricabatterie un caricabatterie diverso dagli altri è un nuovo proprio modello completamente c'è quelli che utilizzo e che c'ho io non c'è più la plastica non c'era sempre la plastica qua di lato però strano non sembra essere originale è possibile qua Xiaomi eccolo qua non si vede tanto bene perché non mette a fuoco però ecco c'è scritto Xiaomi questo forse è l'unica addirittura questo ci dovrebbe avere forse un'altra differenza che ha dagli altri due telefonini è che la ricarica è super veloce cioè già questo che utilizzo questo utilizzo adesso per fare i video in questo caso già una ricarica più veloce del 8 Pro questo dovrebbe avere ancora più veloce dell'8 Pro cioè forse se non mi sbaglio essendo super veloce dovrebbe impiegarci 20 minuti a caricarsi non so se questa cosa è buona per il tempo perché secondo me la batteria si potrebbe guastare più velocemente poi sotto abbiamo il cavetto per caricarlo chiaramente questi già i compoli posso già uscire perché sicuramente poi dopo che lo utilizzerò per stare tutto quanto lo andrò a caricare questo lo rimetto qua e adesso andiamo a prendere il telefono se l'ho messa a caso perché chiaramente l'ho dovuto aprire per metterci la pellicola quella in vetro e qua abbiamo il nostro Redmi 812 Pro se metti a fuoco ok diciamo che il colore è uguale forse è uguale fatemi dare un occhio scusa se muovo un poco sì è uguale a questo di qua perché sì quello che 8 Pro che si è rotto era nero questo che sto utilizzando per il video in questo caso è blu e anche quello che ho preso è blu cioè decisamente è bello io ho apprezzato questa cosa della lucentezza che riflette chiaramente si mette il retro in vetro come era anche chiaramente l'8 Pro che si è rotto purtroppo ha 4 fotocamere chiaramente se volete lo accendiamo cioè non ho ancora manco acceso sì ci ho messo la pellicola e tutto ma non l'ho manco acceso ancora quindi lo accendo in video chiaramente tutte le impostazioni tutte le cose ne andrò a fare poi off camera forse scarico totalmente ok si sta accendendo ok ma perché non mi mette a fuoco ok sì più o meno si accende come gli altri due quale che possede io spero che il menu non sia diverso dovete perché perché poi uno si deve andare abituare perché come dicevo questo che ho solo adesso per il video non lo uso mai perché ogni aggiornamento di sistema che hanno fatto hanno peggiato le cose ed è non mi ci trovo cioè quell'8 pro che si è rotto purtroppo mi trovavo benissimo ma questo non c'è nulla attaccato dietro c'è questo che gli altri due hanno tipo l'adesiva ancora attaccato che non li stacco io praticamente ok mi unito i 13 mi pare che quello 8 aveva 11 e questo di qua dietro il 12 italiano di nuovo Italia batteria batteria il 50% cioè proprio metà si può devo chiaramente fare tutte le impostazioni accordo utente va bene accetto lo so e scusate che devo adesso metterci la password che lo vuole fare dovete darmi un attimo visto che io ok vado avanti ripartisco questa come state vedendo è la prima volta che lo sto accendendo perché non l'ho ancora manca acceso sono tornato diciamo un'unità fa da lavoro e adesso sto facendo chiaramente il video d'unboxing perché se l'ho preso stessi di pomeriggio e adesso sto chiaramente provando entrambi l'otto pro e il novesse li comprai a distanza di 1-2 mesi infatti tutte e due hanno circa 3-4 anni però il novesse è nuovissimo il massimo usato quindi immacolato praticamente in tutto vedete ma hai provato magari a passarci qualcosa nella fotocamera a riavviarlo non cambia nulla ho provato copia app e dati ma questo non mi interessa caso poi lo faccio dopo come dice ho già messo la pellicola in vedanti ci metto adesso già quella in gomma dietro che ripeto è messa a contrario come cavolo questa cosa non dovrebbe essere giusta così datemi un attimo chiaramente qua devo mettere anche le mail e le password quindi non posso far chiedere qua in video ma questa pellicola è stata progettata per questo telefonino o cosa perché aspettate spengo questa pellicola è stata progettata in modo tale che non si toglie più non sto scherzando perché non riesco a mettere ok e no qualche niente perché è uscito dall'altro lato ma sta scherza oh ma veramente bello e poi sarà come cavolo la faccio la faccio uscire poi visto che poi dovrò metterci l'alto allora ok ok eccomi ho fatto già l'accesso col primo account visto che devo farlo poco gli altri anche non mette a fuoco sto copro di backup a se vissi n'entrata e cambia di spazio di genere ma direi proprio di no disattiva gps non lo uso nada va bene accetto in volta per fare queste sintonizzazioni di tutto ci vuole un'eternità in che senna google ovvio io uso google avanti continua visto che poi mi farà la sua memoria come dicevo dovrò sospendere questo non mi interessa non devo farlo adesso non mi interessa neanche non la usa sta cosa poi no grazie come dicevo c'è le guide sono sospese salta di nuovo questa posizione no 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 disattiva neanche carosello non mi interessa no neanche tutto risattiva e allora classico o cassetto classico è tutto pronto vediamo come dicevo c'è delle guide sono sospese visto che ci vorranno un paio di un paio di giorni perché dove sarà tutte le app quindi ci vuole tempo per collegare tutto quanto non essere lo diciamo tutto magari le cose principali solamente per fare i video chiaramente quindi facebook un esempio di ne master io di zero per fare gli editing delle guide e basta preso possibilmente un po magari le atto per fare magari anche chiaramente le copertine ce la facciamo entro domani veramente sto diventando vecchio e giro veramente qua non si muove più mi sta avvenendo il dubbio che sia lento come le questo per fare i video nel senso che quando passi via generalmente il cellulare ci sta in eternità lotto pronuncio perché rapido ma il novesse è lentissimo e mi sembra che anche questo faccia la stessa cosa visto che è rimasto bloccato così per ora sempre se non mi stia installando le app io mi auguro di no scusate se sentite voce ma i vicini di casa ogni volta devono fare casino veramente io c'è che devo trovare il tempo per registrare ci mettono anche i vicini veramente o finalmente o che lo sfondo è diverso e diverso gli altri due ma se c'è andò a mettere ecco aggiornamento di sistema dopo dopo occhi è sì il menu è uguale buona cosa molto simile sia l'otto proprio al novesse sicuramente quando vanno a cancella molte app quasi non si abbassa ma non c'era ma le notifiche qua sopra come si abbassano usate un attimo c'è qualcosa che sta facendo aggiornamento e cose si sta bloccando tutto tutto si no ho capito ok basta tutto la posizione non risponde ma che c'è l'ho accesa adesso è già da problemi ma veramente ok le notifiche dove sono si sono spostate chiudi chiudi no chiudi 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 che sta aggiornando il play store 18 ma che sta aggiornando no non adesso ci dico veramente interrompi interrompi non deve fare nessun giornale ecco perché sicuramente come assoluto play store per i cavoli suo non posso far vedere un attimo deve fare aggiornamenti automatici cosa che io non voglio dove cavolo è non aggiornato automaticamente si stanno aggiornando sicuro che si stanno di nuovo aggiornato perché ok 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 a posto questa cosa della notifica che c'è qui non la voglio io non si porto e sta roba 5 giochi aggiunti ma no che mi sta installando i giochi questi ma dopo di si stanno alle tutte veramente allora va bene adesso chiaramente parlo io faccio alcune prove sulla fotocamera non consentire ok ok va bene non mi allungo più di tanto tanto non faccio registrazione voglio fare un piccolo contro che prima che concludiamo con quello di prima del palese che più grande anzi non di tanto forse quello che ho pensato utilizzando questo per il video è più grande di tutti perché quello è anche più grande dell'otto e penso sarà più il 9 s ancora più grande faccio ancora rivedere un'altra volta il retro che è veramente bello questo è all'otto però questo il 9 in realtà è molto simile comunque al 9 s comunque va bene ok io vi ringrazio per visto questo unboxing e niente spero che non ci siano altri intervisti e noi ci vediamo che se questo video è piaciuto mi lasciano mi piace noi ci vediamo alla prossima ciao